Come in un beffardo gioco di matriosche, l'invasione russa dell'Ucraina e l'arrivo in Europa di migliaia di profughi in fuga dalla guerra impongono un'altra emergenza nell'emergenza. La vaccinazione anti-Covid è per chi arriva da un paese, l'Ucraina, che secondo i più recenti dati della Fondazione Gimbe ha il 63,8% della popolazione non vaccinata. Dunque, i piani dei governi che accoglieranno le persone in fuga dalla guerra dovranno necessariamente tenere conto anche di una riprogrammazione della campagna vaccinale anti-Covid a beneficio di chi è ospitato e di chi ospita. A parlarne al nostro microfono è il professore Alberto Albani, referente regionale dell'emergenza sanitaria. È un problema che però abbiamo già affrontato, cioè nel senso che abbiamo già istituito tutti i gruppi di lavoro. È un problema perché soltanto il 30% della popolazione dell'Ucraina è vaccinato, quindi le persone che arriveranno in gran parte saranno non vaccinate. Noi abbiamo già predisposto una rete in maniera tale che tutti coloro che arrivano saranno sottoposti a tampone e successivamente sottoposti a vaccino se non sono già stati vaccinati. Già l'AS di Pescara è istituito un numero verde che si può chiamare per qualunque esigenza di tipo sanitario. C'è anche un numero dedicato ai bambini, c'è il numero in cui rispondono dei pediatri. Già i due pulmoni che sono arrivati, i passeggeri sono stati sottoposti a visita medica, quindi dobbiamo essere solidari con queste popolazioni e mettere in sicurezza anche da un punto di vista sanitario. Tra queste persone che sono state tamponate sono immerse delle positività? No, probabilmente nessun positivo. Noi abbiamo un popolazione di circa 4.000 persone che sono residenti dell'Ucraina già presenti nella regione Abruzzo. Noi sappiamo che l'Italia è il primo paese in Europa come persone ucraine che sono in Italia. Siano circa 250.000, quindi una forte popolazione. Quindi probabilmente coloro che sono residenti a noi ospiteranno altre persone e quindi dobbiamo essere pronti a seguire, a tracciare tutte queste persone. Un altro problema di cui si stava parlando è la somministrazione dei vaccini legata però allo status di queste persone appunto che fuggono dalla guerra. Questo significa che fino a quando non ci sarà diciamo uno sblocco della documentazione non potranno essere vaccinate queste persone? Noi stiamo aspettando ad ora la soluzione da parte del governo perché dovrà decidere se si tratta dei rifugiati, si tratta di soggetti temporaneamente presenti o profughi e in base a quello che il governo stabilirà noi avremo una procedura amministrativa di tipo diverso. Però quello che non ci interessa è che noi abbiamo un numero sufficiente di scorte di vaccini, un numero sufficiente di scorte di tamponi. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli ed è quello che a noi ci interessa. Poi dal punto di vista burocratica o una pratica o l'altra a noi ci cambia poco. Quindi i vaccini ci sono per tutti? Assolutamente sì, ci sono per noi, per la popolazione abruzzese e per tutti coloro che dovrebbero venire nel nostro territorio proveniente dai zone di guerra.